Musica Nell'ambito del progetto di Idea Generation Cam Creative Lab, cofinanziato da Sviluppo Campania S.P.A., la Progenia Società Cooperativa ha previsto l'organizzazione di aperitivi creativi con l'obiettivo di continuare il percorso di rafforzamento delle capacità e competenze degli aspiranti imprenditori che, da settimane oramai, hanno avviato il percorso di accompagnamento e sviluppo della business idea presso l'impresa CAM, Compositi Avanzati Meridionali, partner di progetto. Aperitivi creativi intesi come momenti informali nei quali i partecipanti potranno incontrare e confrontarsi con dei testimonial di successo, manager di imprese, giovani start-upper, imprenditori di successo, creativi, i quali porteranno la loro esperienza attraverso il racconto del cammino intrapreso, dalla maturazione dell'idea fino alla realizzazione della stessa, e più delle volte partendo da quello che sapevano fare meglio, ovvero dalla passione per il settore nel quale oggi operano. Il primo aperitivo creativo è stato realizzato presso la società 3DNA-SRL con sede nell'area industriale Consorzio Sole di Pomigliano d'Arco. Giovane start-up innovativa, nata nel 2015 ad opera di un giovane ingegnere aerospaziale sotto la guida del mentor professor ingegnere Domenico Taraschi. La società opera nel settore della stampa 3D, combinando innovative tecnologie di prototipazione rapida con le tecniche di additive manufacturing, offrendo servizi integrati nello sviluppo di un prodotto fino alle geometrie più complesse. Grazie a risorse umane ad alto profilo tecnologico e l'attitudine aziendale al problem solving, è in grado di offrire un servizio su misura del singolo cliente in settori quali automotive, ferroviario, aereo spaziale, nautico, fashion, interior design, medico e architetturale.